Spara una cannonata Con il numero 5 Riccardo Bugo Con il 6 Matteo Gritti Con il numero 7 Gian Pietro Zecchini Con il numero 8 Andrea Poscolo Con il numero 9 Dario Sottoria Con il numero 10 oggi capitano Marco Beccaro E con il numero 11 Massimo Pussi A disposizione partita con il 12 Scamigav Busca Con il 13 Presello Con il 14 Beronese Con il 15 Tullantrea Con il 16 Casarotto Con il 17 Monte Mezzo Con il 17 Tettarine Con il 19 Cabine E con il 20 Fulchignoni L'allenatore è il signor Mauro Zironelli Arbitro dell'incontro Amir Salama della sezione AIA di Ostia Il primo assistente Moreno De Ambrosis di Bustansizio Il secondo assistente Claudio Miglia di Nomaro Forza Grazie a tutti. 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 Buon. 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 come facciamo, con pazienza anche perché abbiamo visto che tante squadre si mettono là perché ti aspettano, ti soffrono la preparano così però insomma con calma abbiamo dimostrato che le qualità per far bene le abbiamo insomma poi abbiamo creato anche qualche occasione in più Non riuscivate a sbloccare? Finalmente c'è stata questa intesa bellissima Con Becca sono tre anni che giochiamo assieme quindi basta un attimo quando vedo che lui è girato verso la porta basta guardarlo, la palla insomma ti arriva ma poi bravura basta fare qualcosa, basta vincere Beccaro sotto via intesa meravigliosa Sì dai, diciamo che era una partita difficilissima perché come si era messa giocavano cinque dietro e non trovavamo tanti spazi ho trovato la giocata, ho guardato il mio compagno e io ho messo là insomma è andata bene, dai siamo contenti Direi che trovarsi su in cima fa bene, vero? Si respira un bello ossigeno Fa bene, è bello ma non abbiamo ancora fatto niente siamo solo la terza giornata e noi dobbiamo pensare partita dopo partita con l'entusiasmo dei tifosi siamo un gruppo fantastico e dobbiamo solo continuare così Ecco l'idea che date da fuori proprio che ci sia grande intesa e poi è molto bello anche questo spirito con il pubblico che avete Sì, è nato tutto così che abbiamo un coro nostro dentro il spogliatoio che adesso lo stiamo portando anche fuori con i tifosi e vedo che sta creando entusiasmo e deve continuare così insomma Senti, allora oggi si gioca a Chioggia domani si torna a Mogliano voi desiderate però tornare a Mestre? Certo, lo stadio del Mestre è sempre stato il baracca noi speriamo di tornare lì al più presto anche perché lì veramente dopo le squadre avranno paura a giocare davanti ai nostri tifosi e quindi speriamo di tornare al più presto dai che il Presidente ci faccia un regalo Mestre vince a un cuore nero Siamo noi la voce della curva arancionero Forza Mestre lo farai perché Gli spati sono le miti Crediamo solo in te Mestre vince a un cuore nero Siamo noi la voce della curva arancionero Forza Mestre Siamo noi la voce della curva arancionero